Ciao a tutti ragazzi, sono VTC LPS ITA Ciao a tutti ragazzi Passiamo i primi tre giorni nel 2022 Innanzitutto con me E vi auguro un buon anno nuovo 2022 Allora Siamo qui per farvi vedere Questi disegni di rivoluzione di Ivi Vedete tutta la mia telecamera E questo cosino Perché con questo cosino mi riesco a filmare di più Quindi cominciamo Coppiamo il disegno che adoro Allora sotto il video Se ho i commenti attivati Se no poi li vediamo Scrivetemi in un altro video Nel video in cui ho fatto vedere i tuoi disegni di rivoluzione di Ivi Il primo Oppure sotto i commenti Io valuto il primo Numero 1 Oppure il 1 9 10 No 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Insomma 10 9 8 Insomma questo Oppure potete scrivere Bello Bellissimo Scintillante Stupendo Bellissimo Schifoso No Proprio No Insomma Valutate In base a quanti sono Cominciamo Allora Un secondo Cominciamo a dirvi che Questo Disegno Primo disegno È bellissimo A me Insomma Piace tantissimo Quindi l'ho messo in prima pagina E ho scelto questo colore Non ditemi perché è arancione E adesso Voi lo vedete tutto smorto Ma io invece lo vedo Insomma Vedete Come la luce del sole Immaginate come la vedete No forse un po' meno Con gli occhi Con l'occhio libero Così No scherzo Forse un po' meno Ma vabbè E cominciamo Comunque questo qua L'ho scelto Perché era metà trasparente Il disegno Ce l'avevo di già Sì ieri mattina No ieri sera Sì ieri sera Prima che l'avevo preso Ho fatto un disegno Però era brutto Quindi non l'ho messo Poi ho cominciato a fare questo Bellissimo L'ho messo in prima copertina Quindi cominciamo Il disegno della vita Lo adoro No Un brownie glazion Che si toccano col naso Sono fatti benissimo Vi faccio vedere la mia firma Per la privacy Molto bello Mi piace? Io gli do dieci E dico che è bellissimo Stupendo Silvano e Vaporean Silvano sbagliato i colori Allora Gli faccio vedere sempre la mia firma Dico il mio vero nome Perché LPS Italo Non è il mio vero nome Beatrice si Quindi vabbè Iniziale Non ho secondi nomi Niente Abbiamo un papagallo E uno scogliato E Silveon Intruso Guardate dove va l'intruso Eccolo Allora C'ho scritto Hello Carinissimo Le do nove Perché queste zampe Sono Cioè Come dire Secondo me La faccia è così Le orecchie sono così Quindi Oh Cioè ciao Le orecchie Le zampe sono così Quindi Le do un nove Questo Vaporean Su fratello Diciamo Sì La famiglia blu Silveon shiny Umbreon shiny Vaporean normale Glacean normale Sono praticamente Famiglia blu Allora Questo qua è Vaporean Vabbè Lo adoro Non so neanche se esiste Questo potere Ma l'ho fatto a caso Molto bello Le do otto Perché non so fare queste cose E il muso Comunque è riuscito D'addio Ma Questo Questo pezzo Questo pezzo Qua sopra E in più Diciamo Jolteon Flareon Jolteon Che è riuscito Molto bene Però qua Ho cancellato 1747 Mila volte Scusate se ho colorato male Che ho colorato così Questo Perché Praticamente Andavo di fretta Perché volevo filmare subito Ma poi Non sono andato a dormire Quindi niente Jolteon Che gli do Nove Diciamo Perché ho cancellato Ho fatto le zampe gigantesche Flareon Che gli do Proprio sette Sparato Ne dimmi perché L'acqua deve essere Deve avere più volume Sta cosa è colorata Casissimo E l'orecchio deformato Espeon Con il cuscino Ma lei dorme così Eccola Io so quanto stamattino Stamattino Stamattina Guarda Questi qua In poi L'ho fatto di mattina Scusatemi se ne ho fatti pochi Però vabbè Ecco Che abbia 80 pagine Sto cosa Ma di fatto che può 10 Contateli O 9 8 7 6 Vabbè qualcosa Anche di più di 10 Meno di 10 Insomma Beh posso dirlo È bello Mi piace ma io gli do 6 Perché Espeon Non è che mi fa impazzire La testa l'ho fatta gigantesca Il colore della coperta Non si vede molto bene Niente la coperta E il cuscino è fatto bene E anche lei Però Oh Lì Mi do 10 Perché è troppo bella L'adoro Che sta cucinando Bellissima Bellissima Eevee Che è carina Abbastanza carina Che gli do Un 9 Che è un po' Cato qua sotto Però Poi Glaceon Che non so neanche Se esiste Questo Questo potere Ma ok Eccole Comunque Molto Molto Bella Vabbè ovviamente Glaceon Il mio pokemon Preferito In assoluto Bellissima Ora abbiamo Glaceon Il penultimo Disegno Che tiene in mano La terra Beh Non mi ditemi Il senso logico Di questo Disegno Troppo Allora Qua Ho cancellato 700 miliardi 400 miliardi Mila Di volte Sta tenendo in mano La terra Con l'ombra Sotto Non ho fatto Il resto del corpo Come posso dire Perché Insomma Se no Si vedeva Che era proprio brutto Brutto Anzi Questo disegno Proprio brutto Vabbè Insomma A me piace Gli do 9 Allora Un secondo Il disegno Di glaceon Di prima Gli do 9 Anzi 10 Perché è molto Bello E questo Gli do 9 Perché ho Concerto Mere 700 Volte È molto Bello Oh Un brano Flareon Che sono Incavolati Che si stanno Sfigando Appunto Flareon 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 Di segno Poi lo porterò A scuola Pieno Io vi saluto Ragazzi E al prossimo Video Ciao 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 Grazie.